Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come aggiornare tutti i driver del vostro pc ovviamente è una procedura non abbastanza facile per quelli che vogliono scaricare un programma e usarlo gratuitamente e poi c'è pure il piano per aggiornarlo e passare al premium quindi in questo caso l'applicazione che vi consiglio è Driver Easy ovviamente ci dirà quali driver dobbiamo aggiornare sul nostro computer quindi in questo caso ve l'ho lasciato in descrizione il link per scaricare il programma Driver Easy ci sono tre piani, quello gratuito e quelli a pagamento e poi c'è l'ultimo che ti dà veramente un sacco di cose però devi pagare veramente un sacco al mese per aggiornare completamente tutti i driver del computer quindi in questo caso ci clicchiamo sopra, clicchiamo su Driver Easy ora andiamo a fare una scansione, quindi fai la scansione ora farà così una piccola scansione, farà veramente velocissimo ok, una volta fatto, questi sono i driver che io devo aggiornare quindi in questo caso prendiamo un driver qualsiasi per esempio Realtek Audio Universal Survive ovviamente lo tieni pure tu oppure hai un Realtek High Definition Audio questo qua lo tengono veramente tutti e questo è l'aggiornamento da fare sull'audio quindi in questo caso se io adesso vado su Aggiorna mi dice di passare a Premium per aggiornarlo subito quindi noi ci arrangeremo con Crea manualmente faccio Continua scaricherà così il driver e manualmente poi dobbiamo installarlo noi e ti farò vedere come devi fare ovviamente ci dirà di installare automaticamente il driver però questa è una... per quelli che hanno una versione Premium quindi in questo caso vai su Installa manualmente fai Continua ci porterà così in questa cartella tu clicca qua sopra qua sopra fai Copia chiudi qua e andiamo su Gestione dispositivi quindi Gestione dispositivi lo trovi qua sopra Gestione dispositivi ora il driver che abbiamo scaricato si chiama Realtek High Definition Audio e io adesso vado a trovare questo driver quindi vado su Input Output Audio quindi se riesco a trovare questo driver ok il driver è questo controller audio video e giochi su Realtek Audio ovviamente io avevo fatto anche un aggiornamento grazie al driver della scheda madre quindi il nome preciso è Realtek Audio Console ed è diventato Realtek Audio quindi in questo caso io adesso ci clicco sopra tasto destro sopra aggiorna driver cerca i driver nel computer e incollo quello che ho copiato quindi incollo quel percorso file di quella cartella e faccio avanti e installa così il driver Windows ha completato l'aggiornamento dei driver e chiudo qua quindi bisogna fare per forza così le impostazioni dell'hardware sono state modificate è necessario riavviare il computer perché le impostazioni abbiano effetto io adesso non riavvio lo riavvio più tardi quindi per quelli che hanno una versione gratuita va fatto così quindi scarichi il driver copi il percorso file di quella cartella e poi vai a trovare il tuo dispositivo da aggiornare in gestione dispositivi clicchi sopra fai aggiorna driver cerca i driver nel computer e incolli quel percorso file che hai copiato e lo metti qua e fai avanti e lo installi manualmente quindi se non hai capito la guida riguarda la guida se hai problemi entra nel server discord grazie a tutti per questa visione lascia like iscriviti e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo tutorial ciao